Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Scoppia il gossip tra Lulu Selassie ed Eddie. La principessa è stata sorpresa in bagno con l'ex cantante di Amici La replica di lei arriva su Twitter.Dopo il grande fratello Vip e la fine della relazione con Manuel Bortuzzo, Lulu Selassie continua ad essere amata dal pubblico e non sfugge neanche un dettaglio ai più attenti che l'hanno beccata a casa dell'ex cantante di Amici, Dendy Quest'ultimo anche è single dopo che nel talent della De Filippi si era fidanzato con la ballerina Rosa ma si è lasciata dopo poco tempo dalla fine del programma A scatenare il gossip una foto fatta da Lulu Selassie. La principessa ha scattato una foto davanti uno specchio e subito i fa' hanno riconosciuto che si trattasse dello specchio di casa di Debbie Lulu infatti era lì proprio a casa sua e l'ha confermato proprio lei tramite un'altra story spostata sul suo profilo Instagram, dove ha taggato sia il cantante che le sorelle Jessica e Clarissa che erano con lei Lulu e Teddy, spunta la verità sulla foto in bagno.Entrambi single non dovrebbero in realtà dare spiegazioni se hanno deciso di frequentarsi Molte le supposizioni che sono state fatte, a partire da un flert ad annunci importanti da fare per i due Ma in realtà è molto più semplice di quanto si pensi e a zittire tutti ci ha pensato Lulu tramite il suo Twitter Se sono così placate le voci dopo che Lulu ha risposto a questo tweet, fatevi una vita e lasciate stare questa ragazza Anche se fosse che è nel bagno di Debbie? Eh? Cosa ve ne importa? E poi esiste l'amicizia tra uomo e donna. La risposta di Lulu è stata friendship, ovvero amicizia La Selassie ha dunque confermato che lei ed Eddie sono solamente amici e se sono così placati i gossip che negli scorsi giorni erano iniziati a girare È bastato un commento per far capire che non c'è niente altro che amicizia Del resto chi seguiva Lulu al GFD si ricorda che disse che durante il percorso ad amici del cantante lei ha fatto sempre il tifo per lui, sperando che vincesse il programma Nulla da nascondere quindi per Lulu e Debbie.In comune i due hanno la passione per la musica e Lulu dopo la rottura con Manuel Bortuzzo ha deciso proprio di dedicarsi a quello per riuscire a realizzare il sogno di diventare una cantante Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video